Hanno incrociato le braccia dalla mattinata di martedì i dipendenti della cooperativa Vertal che lavorano all'interno della logistica Cunenagel di Sizziano. I lavoratori denunciano il mancato rispetto degli accordi presi nel gennaio scorso quando la cooperativa si era impegnata ad applicare il contratto nazionale della logistica. E invece ad oggi le buste paga sono diverse da quelle previste, senza tredicesima role e festività. Sono una quarantina i dipendenti che hanno un contratto con la cooperativa nel polo di Sizziano. Nonostante le continue richieste spiegano, non siamo mai riusciti ad avere un dialogo chiaro né con la Vertal né con Cunenagel. Qua le cooperative sono di fantasmi. Quando fermiamo un verbale d'accordo, quello che ha fermato il verbale d'accordo non si fa vedere più. E esce un altro, devi fare ancora di nuovo gli altri accordi. E poi non vengono rispettati neanche il contratto nazionale. Prendono in giro i lavoratori. Gli istituti non sono pagati 100%, entrambi la tredicesima, quattordicesima role, festività, x festività, sono pagati ore. Quindi se tu fai 120 ore o 140 ore, se c'è poco lavoro non ti pagano gli istituti 100%. Alle altri magazzini, dove abbiamo di tutta la provincia di Pavia, abbiamo quasi 50 magazzini. Tutti rispettano, quasi tutti rispettano il contratto nazionale, più l'etichetta mensa e altre cose favorevoli per i lavoratori. Invece qua, proprio non arriviamo neanche al normale.